bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi vi farò vedere tutti e due chi per xbox però non ne ho tanti, sono anche dei lì, il primo gioco è PES 2017 che è bellissimo proprio prima l'ho usato, poi Tennis che metto a colsi che vedete meglio che anche lui che c'è anche questo gioco è bello, Tennis che sta scritto perché ho messo il telefono davanti a cosi non vedo cosa sta scritto ma comunque sta scritto Tennis 4, così che poi qua non si riesce neanche a capire dove sta scritto Mato in questo genere, poi FIFA 14 ma l'avevo preso proprio da quando l'ho preso Xbox, cioè da tanto tempo fa poi pure questa l'ho preso tanto 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 tempo fa, vabbè proprio di tempo fa che 5 anni, vabbè comunque poi con il suo panda quando ero più piccolo, cioè quando avevo i 6 anni ho preso questo all'inizio proprio da Xbox avevo preso questo, anche lui all'inizio, all'inizio quanti giochi avevo preso a questo al contrario, poi Spider-Man 2, poi questo gioco gioca con il Kinect, si chiama Kinect Sport Stagione 2 che è bellissimo, fatto da dietro con me, non so se riuscite a vedere qui beh comunque poi ho FIFA 16 che l'anno scorso l'ho preso poi infine ho preso, sembra questo gioco qua, si chiama Motonsports Adrenalina sempre questo con Ultimate, faccio vedere da dietro pensi di farcela? no no, non penso proprio comunque, spero che questa video vi sia piaciuto mettete un like di questo video, se non l'ho fatto iscrivetevi al canale, se non l'ho fatto e al prossimo video, ciao